Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Un incidente stradale questa mattina lungo la regionale 71 a Rigutino, nel quale sono rimasti coinvolti quattro mezzi, un furgone e tre automobilisti. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti, ma comunque l'arteria è stata lungo congestionata per permettere i soccorsi dei feriti, effettuare rilievi di legge e mettere in sicurezza la carreggiata. Si sono così create lunghe code sia in direzione Arezzo che in direzione Valdichiana. E adesso la cronaca giudiziaria, un accertamento tecnico preventivo per far luce sulle responsabilità sulla tragedia di Cristina Rosi e della figlia Caterina Succi, questo quanto chiesto dalla legale di Gabriele Succi. Un accertamento tecnico preventivo per far luce sulle responsabilità e ridare impulso all'inchiesta sulla tragedia di Cristina Rosi e della figlia Caterina Succi, scomparsa un anno e mezzo fa, a chiedere il marito della giovane madre, Gabriele, che non si è mai arreso. Era il luglio 2020 quando Cristina ebbe un arresto cardiaco prolungato al settimo mese di gravidanza. Lei era in coma quando la figlia Caterina è stata fatta nascere con un parto cesario d'urgenza. Da allora un lungo calvario, gravi danni neurologici per entrambe. La piccola Caterina è morta un anno e mezzo fa all'ospedale Fiorentino Meier, dove era stata ricoverata per una grave infezione polmonare. Noi chiediamo essenzialmente che si proceda a svolgere, a chiedere in via giudizio, perché a questo punto le indagini sono state svolte. Vi sono già due consulenze, ben due consulenze, fatte dalla Procura della Repubblica di Arezzo, che sanciva responsabilità di vari sanitari. È stato trasferito per competenza territoriale a Firenze. Non mi sembra un caso molto complesso da istruire per chiedere un rinvio a giudizio. L'inchiesta, coordinata dal PM Marco Dioni, era partita nel gennaio 2021 dopo una querella contro ignoti. Indagati per omicidio colposo, tre medici di careggi e per lesioni gravissime, un medico a retino in relazione alla cardiopatia di cui soffriva Cristina. La Procura aveva anche nominato un collegio di periti guidato dal medico legale Marco Di Paolo dell'Università di Pisa. Il fascicolo era stato poi trasmesso a Firenze per competenza territoriale. A distanza di un anno, la famiglia chiede ai magistrati di fare presto. Già i consulenti del pubblico ministero, nominati dal dottor Dioni ad Arezzo, avevano sancito una responsabilità di vari sanitari. Allora, questa responsabilità noi abbiamo chiesto che venga accertata anche da dei CTU, cioè dai consulenti tecnici d'ufficio nominati proprio dal Tribunale Civile. In attesa ovviamente che la Procura della Repubblica di Firenze voglia finalmente prendere delle decisioni in merito, perché ad oggi non ha preso nessuna decisione, né nei confronti per le lesioni gravissime subite dalla mamma né per l'omicidio della piccola. Comincia da oggi la lotta ai cattivi odori. Per sei mesi in giro 30 annusatori che rileveranno l'origine delle malodoranze che da circa due anni sono segnalate dai residenti di alcune zone della città. È scattata oggi la caccia ai cattivi odori ad Arezzo. Si tratta di uno studio olfattometrico. 30 annusatori che per i prossimi sei mesi scenderanno in campo nei 52 punti che sono stati indicati e che si trovano nelle località nelle quali ormai da mesi vengono indicate malodoranze. Da San Zeno alle Poggiola, da Ponte a Chiani, a Dolmo e Battifolle, queste le zone da dove negli ultimi mesi sono stati segnalati disagi dovuti all'indesiderata convivenza con cattivi odori. Dal mattino è presto, ieri mattino non si respirava. Un odore è talmente acre che a volte non si respirano, proprio ti tappa la gola, il naso. Io mi sono ritrovata d'estate che mi era entrato improvvisamente questo odore in casa. Ho dovuto chiudere le finestre perché me ne entrava altro. Lo studio è stato commissionato dal comune di Arezzo alla Eccola Studio di Lucca. Dopo un primo slittamento adesso entra nel vivo. L'obiettivo è quello di dare risposte definitive sull'origine degli odori che i residenti segnalano da tempo, soprattutto in estate. Nell'ultimo periodo, devo essere sincero, si sente leggermente meno, molto probabilmente per quanto riguarda il vento, soprattutto in estate, che le temperature aumentano, l'odore è naturalmente più forte, quello assolutamente. I nati sono stati selezionati ed allenati a riconoscere vari tipi di odori. Adesso gli annusatori eseguiranno sopralluoghi sostando nelle postazioni individuate nelle 12 località, annuseranno l'aria di intervalli ed inseriranno nel questionario digitale la propria sensazione olfattiva. Pensa che possa servire? Io me lo auguro di cuore perché noi sono anni qui a Chianica e d'estate non si apre le finestre. È infine disponibile per tutti i cittadini un'applicazione per la gestione delle segnalazioni. Pendolari Aretini, ancora a disagio, è anche slittato il tavolo di confronto. Consumatori sono così pronti per passare alle vie legali per tutelare i pendolari. Siamo stanchi di promesse non mantenute, siamo pronti ad intraprendere azioni legali per tutelare i pendolari. A tuonare il movimento consumatori di Arezzo dopo l'ultimo rinvio del tavolo che si sarebbe dovuto tenere il 26 marzo scorso tra Regione Toscana, Trenitalia ed RFI. La riunione è stata rinviata dopo Pasqua, ma l'associazione chiede chiarimenti sulle motivazioni di questa decisione. Ci teniamo a ricordare alla Regione Toscana che i continui disservizi e disagi che sono costretti a subire pendolari del Valdarno e della linea Aretina non si risolvono da soli, ha dichiarato Armando Bansueto, presidente del movimento consumatori Toscana. Dobbiamo forse pensare che non è una priorità della Regione Toscana il diritto alla mobilità? Lo scorso 19 marzo, come Movimento Consumatori Toscana, assieme al Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, siamo stati auditi presso la Quarta Commissione in Consiglia regionale. Da tal incontro speravamo di iniziare finalmente un percorso che potesse portare alla risoluzione definitiva dei problemi che affliggono da anni pendolari. Ci preme ricordare che la Regione Toscana è il titolare del Servizio di Trasporto Pubblico Ferroviario di Interesse Regionale e Locale, nonché parte contrattuale del contratto di servizio stipulato contra l'Italia. Siamo quindi pronti ad intraprendere vie legali. La disponibilità, conclude Mansueto, deve essere reciproca. Luto nel mondo del commercio aretino è scomparsa nei giorni di Pasqua a Licia della Lunga, commerciante conosciuta da Rezzo per il suo entusiasmo e per la sua attività imprenditoriale. Il presidente di Confesercenti Arezzo, Mario Landini, e la direttrice Valeria Alvisi esprimono a nome dei dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'Associazione Cordoglio per la perdita di Licia della Lunga e si stringono attorno ai familiari. Ed oggi 2 aprile invece la giornata mondiale sulla consapevolezza sull'autismo, una giornata megafono, la definita l'Associazione Arezzo Autismo. Questo 2 aprile è una giornata megafono, megafono in cui noi possiamo parlare delle nostre difficoltà e cercare di coinvolgere la società civile, le istituzioni, verso una conoscenza, una consapevolezza delle nostre difficoltà. Inizia oggi il Mese Blu nella giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Un intero mese e tante iniziative anche ad Arezzo che hanno come obiettivo quello di diffondere sensibilità ed informazione. Un momento di riconoscimento della diversità e possibilità per le persone autistiche di rendersi conoscibili all'esterno, alla società e quindi di creare presupposti per la loro inclusione. In Italia un bambino su 77 nella fascia d'età compresa tra i 7 e i 9 anni rientra nello spettro autistico. I numeri sono in crescita e noi pensiamo che ci sia anche in ballo una questione di diagnosi, di crescita del numero delle diagnosi, di situazioni che magari in passato restavano sotto traccia. È comunque un'evidenza quella del rinnovarsi di situazioni legate alla disabilità intellettiva e in particolare all'autismo che è uno spettro, come è noto, quindi ha molte facce e si presenta in maniera sempre diversa. Quindi noi dobbiamo elaborare degli approcci che siano in grado di non lasciare indietro nessuno. Dall'associazione Arezzo Autismo in questa giornata arriva una richiesta forte e chiara alla comunità. A tutti chiedono un maggior coinvolgimento. A livello scolastico è importante che ci sia continuità e specializzazione nel sostegno ai nostri ragazzi. Questo per quanto riguarda la scuola. Per quanto riguarda il tempo libero è importante che la società includa, integri ancora meglio, i nostri figli nelle attività che fanno tutti gli altri bambini. Però è importante che nelle società sportive o società di altra natura, musicale o teatrale, ci sia una specializzazione di fondo qualcuno che conosca la neurodiversità e che quindi li sappia affiancare in maniera mirata, graduale. Ma quando la scuola finisce l'autistico non si trasforma in una persona come le altre, entra in società nel mare aperto e sparisce, non guarisce. Dall'autismo non si guarisce. Vanno dati degli sbocchi lavorativi. Gli va dato un posto nelle dinamiche lavorative, qualcosa che sia conforme anche alle sue attitudini. Perché molti dei nostri associati, ma molti autistici più in generale, hanno delle attitudini spiccate, spiccatissime per un certo tipo di attività. Quindi un intervento da parte di un'azienda per includerlo in un ambito lavorativo, se fatto cercando di bilanciare le attitudini e le esigenze di entrambi, può risultare utile, efficace e conveniente soprattutto dal punto di vista economico. A Castiglione Fiorentino invece un flash mob per sensibilizzare sull'autismo e l'inclusione. Una performance a sorpresa degli studenti e le studentesse dell'ISIS Giovanni da Castiglione, che domani animeranno Piazza della Municipio, celebrando al rientro delle vacanze pasquali la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Da Gaza ha d'indicatore invece il titolo della serata di approfondimento sulla Palestina e contro la guerra. Arci, Oxfam Italia, Un Ponte Perre e l'Associazione Amicizia Italia-Palestina promuovono infatti una serata con la delegazione di Rafa, che recentemente ha partecipato ad una missione umanitaria a Gaza. A seguire musica e cena palestinese per dire un forte no. alla guerra. E adesso voltiamo pagina, torniamo in città. La Fraternita dei Laici compie infatti oggi 761 anni, come riportato da un documento conservato in un cassetto del palazzo di Piazza Grande. La Fraternita dei Laici è un'istituzione voluta dal vesco Guglielmo e oggi compie 761 anni, è il compleanno della Fraternita. È una storia lunga più di 700 anni, quella della Fraternita dei Laici di Arezzo. La sua nascita è testimoniata da questo documento, il decreto del vescovo di Arezzo, Guglielmino degli Ubertini, datato 2 aprile 1263. Il decreto si articola in diversi capitoli che vengono evidenziati anche dalle lettere scritte in maiuscolo. È una scrittura molto attenta con il carattere aretino. Questa è una scrittura aretina, cioè un modello di grafia che era stato realizzato in quel periodo, tredicesimo secolo nella nostra città. Il segretario del vescovo di Guglielmo degli Ubertini era un signore che si chiamava Parenzo di Garzo, che era il nonno di Francesco Petrarca. Quindi un mondo che è davanti a noi e non è escluso che questo documento sia proprio stato scritto dal suo segretario, che si chiamava appunto Parenzo di Garzo, nonno di Francesco Petrarca. I rettori riscuotevano le donazioni testamentarie devolute in favore dell'ente da distribuire poi ai poveri bisognosi, tra coloro che hanno chiesto aiuto alla fraternita anche Giorgio Vasari. Quando Vasari nel 1527 gli muore il babbo e la mamma, Vasari venne a chiedere aiuto, aveva fame. Tre sorelle andarono in convento. Il fratello e lui, 16 anni e 14 anni lui, arrivarono in fraternità, chiesto l'udienza ai rettori e i rettori lo aiutarono. E quando poi nel 1574 Vasari muore, lascia in eredità tutto alla fraternita, riconoscente. E così nei secoli. Nel ventunesimo secolo cosa rappresenta la fraternita? La fraternita del ventunesimo secolo mantiene gli ideali di fondazione, ideali che hanno caratterizzato tutti questi secoli. E in più diventa contemporanea, perché il palazzo è aperto. Io ho sempre definito questo palazzo patrimonio di tutta la città di Arezzo ed è il patrimonio di un palazzo per il futuro. Qui vengono realizzati e saranno realizzati eventi mai verificati primi in città. Quindi la contemporaneità è dare questo grande involucro che è il palazzo di fraternità per lo sviluppo sociale, culturale e artistico della città. Ma non finisce qui, perché se io riesco, come siamo riusciti a coltivare 1300 ettari di terreno e possiamo produrre una bottiglia di olio o una bottiglia di vino, e se una bottiglia di vino e una bottiglia di olio finisce sulla tavola degli arettini, questo è un segno di contemporaneità. Tutto pronto per l'85esima edizione della Maggiolata Lucignanese, che prenderà il via giovedì 16 maggio con la tradizionale serata inaugurale. La prima uscita è in programma domenica 19, a questa seguirà la notturna di martedì 21 e poi gran chiusura in programma domenica 26 maggio con la proclamazione del carro vincitore dell'edizione 2024 e la consegna del Grifo d'Oro. A livello organizzativo, invece, le ultime settimane sono state contrassegnate da un avvicendamento alla guida della festa. In esito ai risultati delle elezioni per il rinnovo del comitato organizzatore, il nuovo presidente è Guido Perugini. Passiamo adesso allo sport. È intitolato a Lorenzo Cerofolini, giovane atleta della Capolona Quarata, prematuramente scomparso nel dicembre 2022, il campetto da calcio inserito nell'area verde di Ripa di Quarata. La svelatura della targa in memoria di Lorenzo avverrà a lunedì 8 aprile, giorno del suo compleanno, in occasione dell'inizio delle fasi di qualificazione del secondo memorial Lorenzo Cerofolini. Torneo giovanile organizzato dal Capolona Quarata con il patrocinio e contributo del Comune di Arezzo è riservato alle categorie esordienti classe 2011 per i dilettanti e classe 2012 per i professionisti. Già 30 le squadre in gara, dall'8 al 29 le qualificazioni e le finali il 4 e il 5 maccio. A Cortona invece è tutto pronto per la prima Gran Fondo della Sira. Al successo delle colli cortonesi nasce una nuova manifestazione organizzata da Team Bike Sira Cortona con il patrocinio del Comune, Regione Toscana, Federazione Ciclistica Italiana, Cortona Doc e il supporto di GS Ossai e della Polisportiva Val di Loreto che ospita la logistica. Sono già oltre 500 gli iscritti alla gara di domenica 7 aprile che offrirà uno spettacolare percorso sino alla vetta di Monte Sant'Egidio. Domenica 24 marzo invece si è svolta la seconda prova regionale della campionato individuale Allievi Gold. Il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco Gasbarri ha portato in campo gara tre atleti per tre diverse categorie accompagnati dal tecnico Anna Piazza. L'atleta più giovane Pietro Violetti si è giudicato il primo posto nella categoria Allievi 2. Vittoria condivisa anche nella categoria Allievi 3 che ha visto Filippo Grateni conquistare un tanto atteso primo posto. Tra gli Allievi 4 ha gareggiato infine Andrea Giovannini che ha raggiunto il sesto posto. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.